Cinema si intitola Private Lives, l'ultimo lavoro del regista padovano Giuseppe Ferlito presentato a Miami, un docufilm che racconta le vite di un attore Giordì Molla e del pittore Doingo Zapata. Servizio di Elisa Billato. L'occhio della macchina da presa ad indagare sulla vita di due artisti, un attore e un pittore, Giordì Molla e Domingo Zapata. The Private Lives, l'ultimo lavoro di Giuseppe Ferlito, regista padovano volato a Miami per realizzare un documentario che racconta l'arte ma anche di come l'arte cambia la vita. Le riprese durate diversi mesi tra New York, Los Angeles, Miami, Mallorca e Roma. Molla dipinge da quando aveva 20 anni, oggi ne ha 53. Domingo Zapata, una carriera a Wall Street, cambia vita e inizia a dipingere. Il successo arriva proprio negli Stati Uniti. Un ritratto intimo, quotidiano, ma anche una testimonianza di come la vita all'improvviso può cambiare.